Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Oggi, con grande entusiasmo, vi portiamo una notizia che ha profondamente commosso Romina Carrisi, la nota figlia di Albano e Romina Power. In diretta dagli studi di La Volta Buona, Romina ha rivelato di essere incinta, già al settimo mese, in attesa del suo primo figlio. Quest'annuncio ha suscitato grande emozione tra i suoi numerosi ammiratori, tuttavia il nome del bambino rimane un mistero. Il piccolo, frutto dell'amore tra Romina e il regista Stefano Rastelli, è un simbolo dell'unione nata durante il Festival di Sanremo nel 2022. La loro relazione, ricca di momenti indimenticabili e caratterizzata dalla forte determinazione di Stefano, è cresciuta rapidamente e ora, quasi due anni dopo il loro incontro, si apprestano a diventare genitori. Tuttavia, in questo momento di felicità, Romina è anche toccata dalla tristezza per la perdita della sorella Ilenia, un lutto che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia Carrisi. Romina, cresciuta in un ambiente familiare sotto i riflettori e le aspettative, si aggrappa ai ricordi felici. La mancanza di Ilenia è un vuoto costante nella sua vita, e Romina esprime il suo dolore desiderando che la sorella potesse essere presente in questo momento gioioso, pur sapendo che non è possibile, il che aggiunge un velo di malinconia a questa dolce attesa.